All'Istituto Comprensivo Montessori di Talenti a Roma, la Divina Commedia diventa un'esperienza immersiva con la tecnologia che introduce uno strumento di inclusione. Gemma Giovannelli. Sto vedendo una signora con un mantello e ora siamo in una grotta. Nella nuova palestra dell'innovazione all'interno dell'Istituto Comprensivo Montessori nel quartiere Tuffello, gli studenti possono con speciali visori immergersi nei mondi raccontati dalla letteratura, a cominciare dalla Divina Commedia di Dante. Vedo della nebbia scura, più o meno di color rosso, tutto di nebbia scura, vedo delle anime peccatrici che stanno soffrendo. Ma chi sei tu? Sono Dante Alighieri. È la sfida dell'uguaglianza tra centro e periferia, accanto alla palestra dell'innovazione anche il Fab Lab, dedicato agli alunni della primaria, cui possono dare forma alle proprie idee attraverso la fabbricazione digitale. Entrambi i laboratori saranno a breve aperti ai cittadini del quartiere, non importa l'età. Abbiamo laboratori per la scuola primaria, secondaria, ma anche per gli over 65, da 0 a 100 anni. Nuovi linguaggi tra didattica e innovazione sociale, guardando al futuro. Le scuole possono essere un hub straordinario per le contaminazioni fra le esperienze più avanzate del territorio e soprattutto per contrastare le diseguaglianze, che oggi sono anche divari digitali. Per questo lavoriamo nella nostra città e le portiamo in particolare nelle aree dove le opportunità sono di meno.